Allora ragazzi, intanto mi avete visto questo video, sinceramente non c'è nulla cosa dire, devo aspettare la pallina per condolare e fare la frusta in questo movimento. Comunque il mio consiglio è di fare un buon palleggio e dallo stesso punto fare due tiri. Non deve capire cosa fare, però ovviamente dovete prendere la porta, non come me che sto prendendo i palli. Ovviamente se la pallina è più avanti salterà male. Questo è tutto, spero rompere il piegno di palli. Grazie.